Noi la disabilità la viviamo, evidentemente c'è qualcuno che la disabilità non la vive, non la conosce, quindi non ne conosce la normativa, l'apparato normativo che sostiene il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Se non è polemica aperta poco ci manca, Vincenzo Zoccano, presidente della consulta regionale disabili, non ha gradito affatto le perplessità espresse ieri dal direttore generale confartigianato Enrico Eba in merito all'obbligo per le imprese con più di 15 dipendenti di assumere dal primo gennaio del prossimo anno un disabile e le smonta specificando come verranno assunti i portatori di handicap. Io non ho mai visto un cieco che guida un camion come potrei essere io, né ho visto un disabile con gravi problemi motori che lavora magari al telaio di tessitura o che faccia il facchino perché magari non riesce a sollevare i pacchi. Allora il collocamento esiste, si chiama mirato e se è mirato un motivo forse ci sarà. Stigmatizzando affermazioni che a suo dire riportano la discussione indietro di 30 anni, Zoccano sottolinea come il provvedimento preveda una serie di agevolazioni. Le aziende hanno un ritorno d'immagine e hanno dei vantaggi anche economici e fiscali da questo. Questo forse sfugge a qualcuno però è una realtà, è un dato di fatto. In ogni caso la consulta intende recuperare magari in anticipo quello che potrebbe suonare già come uno strappo. Gli artigiani sanno sicuramente distinguere quelle che sono le affermazioni di uno e quelle che sono invece collegialmente condivisibili.